Un pazzolo ancora da comporre, nessuno seriamente avanza una pedina, nei tre schieramenti è solo un purparlì. Tanti nomi, una sola donna, potenzialmente in lizza per la candidatura alla poltrona di sindaco di Bari. Problemi seri a sinistra con i 5 Stelle, capace di stare in mezzo tra la forgia di sinistra ed il PD in regione, ingiunta con Emiliano, che però non vuole l'avvocato Barese, anche se nelle ultime ore la forgia a un nuovo grande e forte sponsor, l'ex presidente della regione Vendola, eletto presidente del partito di Fratoianni. Niente candidature azzerate, è confermato, il PD è solo. Nella Carra, Palone, Romano, Petruzzelli, Leccese. Intanto c'è chi può dare una svolta al suo futuro, cioè oggi segnare un gol a porta vuota, ma il centrodestra tergiversa. Intanto sale la candidatura dell'ex prefetta Antonella Bellomo, che potrebbe mettere tutti d'accordo, così un parlamentare non sarebbe costretto a lasciare il suo posto per evitare che se ne possa appropriare De Caro. Grazie a tutti.